Amici e amici di Rossini TV, certo che sarà un buongiorno anche per voi che siete qua con noi anche questa mattina, ben trovati, benvenuti all'ascolto in visione di questa nostra rassegna stampa Buongiorno Rossini, che va in onda in diretta, sono le 7.20, va in onda in diretta sul canale 80 di Rossini TV e per l'edizione appunto della diretta anche sulla pagina Facebook della nostra emittente. Come ogni mattina alle 7.20 siamo a dare lettura dei titoli, dei quotidiani con in qualche modo l'input a poi approfondire, procurando i quotidiani stessi, andando a approfondire i vari dettagli contenuti negli articoli. Diamo prima di cominciare la solita occhiata al meteo dell'aeronautica militare che ci dice che la giornata è coperta, temperature variabili in questo momento da 7 gradi tra i 13 e i 7, la temperatura effettivamente non è caldo come nei giorni scorsi, ma lo diventerà perché siamo già a vedere che poi nelle ore più calde appunto arriverà anche di nuovo a 12 e anche oltre. Il cielo è coperto, ahimè per chi ha avuto voglia di guardare che cosa succederà nel fine settimana, sembra che questo preluda a un peggioramento del tempo e questo non è bello per tutti quelli che si stanno preparando alle varie iniziative legate alla Befana. La nostra webcam oggi è puntata su Pesaro, su Baia Flaminia, vedete il mare calmo, sembra di vedere da questa distanza perlomeno, ovviamente il litorale vuoto perché insomma al mare d'inverno a quest'ora del mattino poi non ci va tanta gente, però qualche movimento c'è, si sono spente delle luci e insomma qualcosa come sempre starà muovendosi di sicuro. Vediamo anche un paio di saluti a quelli che ci stanno aspettando al Varco come sempre, da Carpegna ci saluta Filippo, ciao Filippo, contraccambiamo per tutta Carpegna, Fiorella, Fiorella Pari buongiorno e buona vigilia dell'Epifania, Michele, Matteucci Pratelli buongiorno, buongiorno Michele, buongiorno anche a Davide Sperandei, ricambiamo, Antonio Di Benedetto da Morciola, ringrazio a tutto lo staff per l'impegno che avete fatto per la struttura di Morciola, per i nostri cari, grazie, sì ieri ci siamo mossi ma vedrete che lo speciale sarà molto approfondito, è una cosa di cui poi scoprirete e parleremo, Ornella, Almerina, Almerina ciao Ornella ciao, Luigi, Anna e poi Antonio Di Benedetto, insomma tutti quelli che ci aspettano tutte le mattine e qualche inserimento nuovo, fa sempre piacere salutare. Allora andiamo con la lettura dei giornali che sono oggi particolarmente corposi, oggi venerdì 5, facile, l'abbiamo detto l'altro giorno, questo primo mese sarà facilissimo perché è venerdì 5, quinto giorno dell'anno, quinto giorno del mese, quinto giorno della settimana, facilissimo, andiamo avanti, salviamo il Palazzo della Provincia, diamo un'occhiata alle due prime pagine, da cui rileviamo tra l'altro solo due notizie comuni, per il resto è tutto diverso, il resto del Carlino mette un titolone, salutiamo il Palazzo della Provincia, ne abbiamo parlato anche noi ieri in Rossini News, potature al parco c'è la risposta di Enzo Belloni a chi lo accusava di tagliare alberi a tutta randa, diritto allo studio, la regione taglia dal bilancio 4 milioni, vediamo e vedremo se troveremo modo di approfondire, 70 anni per Silvio Cattarina, il quale non ci pensa per niente a fare il candidato sindaco, così dice il titolo della bella intervista che gli ha fatto poi Luigi Illuminati, lo vedremo a pagina 11, la Befana invita tutti i bambini a ritornare ai giochi di una volta e ad abbandonare i cellulari, chissà se sarà un momento vano questo oppure no. Le uniche due notizie che ci sono in comune, poi lo vedremo fra un attimo con la pagina del Corriere Adriatico, sono la risposta di Fano a Pesaro, Pesaro lancia la sfera e Fano rilancia con le vongole giganti, vedremo dopo esattamente di cosa si tratta. La Vis, Silla dopo averci detto e anche fatto dire che insomma avrebbe voluto fare di meglio, niente, firma è Valperugia, però in compenso alla Vis arriva l'ex Inter, Obi e vedremo il colpaccio di cui ha parlato il Presidente. Dunque il Corriere Adriatico invece dà molto spazio a strada Carloni, altro stop dice chiuso fino al 29 febbraio, lo sappiamo ci volevamo passare stamattina, non siamo potuti passare da quelle parti, lo sprint verso l'apertura completa la bretella di muraglia, vedremo dopo ci sono alcuni passaggi da fare ma l'opera è importante e stravolgerà proprio completamente tutto il movimento del traffico in quella parte della città. La fotonotizia che il resto del Carlino l'avevo trascurato, l'aveva dedicato alla strage in galleria, ci sarà poi dopo un bel approfondimento e invece qua nel Corriere Adriatico per Fonte Avellana cambio della guardia, Don Gianni lascia, arriva Frate Cristiano. Furti nelle casette hanno denunciato il ladro in monopatino, l'hanno trovato, praticamente l'hanno subito scoperto con le telecamere, d'altra parte penso che in questo momento non ci sia luogo più controllato dalle telecamere di Piazza del Popolo a Pesaro, per cui un po' così estrosa l'idea di questo ladro di tentare il colpaccio. La vongola gigante è anche appunto il Corriere Adriatico, polemica sull'ASP, tinti da Forza d'Italia, critiche stravaganti e vedremo cosa dice Foghetti, per i voli il Corriere Adriatico giustamente non molla l'osso, ha questa bella inchiesta articolata che sta portando avanti ormai da mesi sul discorso dell'Aeritalia, dell'ATIM, dell'aeroporto di Falconara e non molla e va avanti, ci sono addirittura quattro pagine su questo argomento. La vis si rassegna, sì la Valperugia, ahimè, c'è una presa di posizione di padre Maggi, padre Maggi è il montefanese, il biblista montefanese Alberto Maggi, che prende spunto da una notizia che è arrivata, c'è stato tutto un discorso di papà Francesco che aveva aperto alla possibilità, o meglio aveva dato disposizioni perché si potessero benedire le coppie gay e poi è arrivata una specie di risposta che dice sì però velocemente, cioè allora giustamente padre Maggi dice cosa facciamo col cronometro, vabbè, allora lo vedremo se avremo la possibilità di approfondire perché il tempo corre e torniamo, allora oggi a partire con il resto del Carlino. La prima pagina l'abbiamo già vista, l'avevo trascurato perché era talmente in mezzo che come sempre succede quando c'è una cosa talmente evidente c'è il rischio poi di tralasciarla, invece straggia in galleria, quei minuti persi vedremo Damiani a pagina 3 che ripercorre un po' la vicenda tirando fuori degli argomenti un po' delicati. C'è anche un viaggio di nozze da incubo, dopo sette anni c'è stato un risarcimento di 300 mila euro a favore di una neosposa all'epoca che ha subito un incidente in Kenya e andiamo. Allora la straggio in galleria, qui Roberto Damiani approfondisce e fa anche una specie di tabella, tabella di marcia. I vigili del fuoco sono arrivati con molto ritardo rispetto al 118, se fossero giunti insieme forse avrebbero potuto estrarre le 4 persone. Tanti automobilisti hanno visto senza intervenire la straggio in galleria all'intopo dei soccorsi. Ovviamente messa così sembra che i vigili del fuoco abbiano tardato, in realtà poi andando a leggere si scopre che c'è stata una sovrapposizione di chiamate, proprio perché in tanti stavano chiamando, le linee erano occupate, eccetera. Comunque i tre punti critici, la prima telefonata per l'incidente arriva alle 15.20 al solo 118, i pompieri vengono attivati alle 15.22, per cui due minuti dopo. Solo dopo le telefonate degli automobilisti di passaggio alle 15.27 il 118 segnala che la galleria è impraticabile e causa fumo, i pompieri devono ancora arrivare perché allertati più tardi. Poi c'è un punto 2 nella galleria e questo forse è il più delicato di tutti ed è quello su cui si può veramente lavorare. Nella galleria manca l'impianto antincendio, manichette simili, le vie di fuga, fumo compreso. Per cui questo punto qua è un punto veramente delicato, perché mancavano e qui c'è da approfondire. Il terzo punto, le auto dirette a Urbino non si fermano, gli autisti fanno foto e video, nessuno scende per intervenire. Non so cosa dire sinceramente, perché effettivamente fermarsi per fare i video è un po' così, però anche scendere per intervenire se non hai l'estintore, se non hai il mezzo, se non hai la possibilità diventa anche un po' complicato. Probabilmente la cosa migliore da fare sarebbe stata quella di andare velocemente, liberare l'area proprio per dare la possibilità ai soccorsi di arrivare. Con l'occasione si aggiunge un approfondimento, sei morti in pochi anni, trafica di incidenti, questa cosa che viene fatta spesso, cioè di accorpare poi altri eventi luttuosi in un'unica pagina per fare una sorta di ripresa di tutto quello che di drammatico è successo. Tralasciamo, andiamo oltre. Passiamo al parco, il parco pulito, nei giorni scorsi avete visto c'è stata una polemica, Andrea Fazzi ha detto che vengono tagliati, viene tagliato un bosco storico per attivare delle politiche contro gli spacciatori. Enzo Belloni, l'assessore, risponde agli ecologisti priorità alla sicurezza contro la droga. Noi non disboschiamo l'Amazzonia, potiamo anche per dare luce alle piante. Insomma c'è questo braccio di ferro non da poco tra appunto tutto il mondo che segue con attenzione la vita del bosco e del parco Miralfiore dal punto di vista naturalistico e invece l'assessore Belloni che si sente un po' preso tra vari fuochi. La sicurezza del parco prima di tutto, questo è il suo mantra. C'è un altro virgolettato che ho evidenziato, è chiaro che il parco diventa appetibile anche dal punto di vista politico, dice Belloni, non è che in qualche modo venti l'ipotesi, non è che tutta sta polemica nasce perché siamo dalle parti delle elezioni. A giugno ci sono le elezioni, qualcuno dovrà dire se ho ragione io oppure non è che si può stare sempre nella macchia. Il Miralfiore è un parco urbano, non è una foresta al quale risolviamo una grandissima attenzione. È molto articolato, Davide Eusebi insiste, approfondisce, parla, confronta e insomma porta avanti questa tematica che può essere approfondita con attenzione seguendola sui quotidiani. Battaglia per la provincia, altro tema che è emerso ieri, c'è stata questa conferenza stampa da parte dei quattro architetti, Achille Paianini, Alessandro Ceccarelli, Luigi Cioppi, 5 sono, Carla Tarka e Paolo Marconi, che stanno muovendosi, organizzandosi per salvare il palazzo della provincia, il palazzo della provincia di Via Gramsci, che lo vedete in questa foto, non è che sia proprio questo palazzo storico bellissimo, però loro dicono evitiamo di farlo diventare condomini e negozi, trasformiamolo in qualcosa a disposizione del pubblico, per esempio, una buona idea potrebbe essere quella subito messa in campo da sindaco Ricci, che è mettiamoci l'università. Allora, sì, l'università potrebbe essere una cosa giusta, però spazi comuni, insomma, mettiamoci le mani, evitiamo la demolizione. Il punto chiave è no alla demolizione, no al cambio di destinazione d'uso, no a trasformare piano terra in un supermercato, questo è anche riportato, i punti in discussione riportati qua da, appunto, l'articolo del resto del Carlino. Vedremo, vedremo come andrà, sicuramente le voci che si sono alzate per questa difesa di questo edificio, sono voci autorevoli, sono tutti architetti di chiara fama e chiaro nome, andiamo avanti, il viaggio di nozze diventa un incubo, questa è una notizia, appunto, di ieri, di questi giorni, per quanto riguarda la sentenza, ma l'evento di cui si parla è di sette anni fa. Era un viaggio di nozze in Kenya, Elisa Quaroli col neomarito Derek Zampetti da Montegranaro, avevano questo viaggio che gli amici gli hanno regalato in Kenya e nel trasferimento dall'aeroporto o viceversa, adesso qui non mi ricordo più, c'è stato un incidente, cioè questo pulmino andava forte, insomma, si è ribaltato. Lei ha rischiato anche di morire, ha avuto un trauma toracico, è stata salvata dal medico Kenyota che ha deciso di intubarla in mezzo alla savana, qui Paola Paganelli fa anche un po' di letteratura, e insomma si è salvata, però non è andata liscia la storia. E allora c'è stata questa causa, l'avvocato Francesca Ippoliti, l'avvocata Francesca Ippoliti che l'ha assistita, dice sono felice per Elisa, si merita ogni centesimo di questo risarcimento, inspiegabile il comportamento della società di viaggi. La società di viaggi era l'Eden Viaggi che poi è stata assorbita dal Pitur, come sapete, nel frattempo, e comunque è andata lunga la storia, ma è arrivata a conclusione, lei verrà risarcita. C'è un lutto al quale ci uniamo da colleghi, Alessio Zaffini, appunto giornalista, ha perso la mamma, la mamma Stefania Beni, noi ci uniamo al suo lutto e al cordoglio di tutte le redazioni e di tutti i cittadini di Pesaro e tutti quelli che la conoscevano. Capitale, cosa dice la gente? E qui c'è Giorgia Monticelli che va un po' in giro per la città a chiedere un giro di opinioni tra i residenti e la cosa curiosa è questa, cioè non si parla d'altro da un anno e mezzo, però qualcuno ancora alla mente dice ma ancora non si è capito, si sente poco parlare di cosa effettivamente ci sarà. Questo è quello che emerge, non pare che non siano abbastanza i 329 eventi in 365 giorni previsti dal calendario di Pesaro 2024 per assicurare alcuni cittadini e non sulla sfida da capitale che la città sta preparandosi ad affrontare. Pesaro inaugurerà il suo anno capitale sabato 20 gennaio alla Vitri Frigo Arena, tra l'altro ci sono ancora dei posti, se prenotate potete andare in diverse soluzioni, sia al tipico tips, un altro punto vendita che adesso mi sfugge e soprattutto viva ticket online, sono gratuiti naturalmente, sarà un sabato, un sabato mattina di questo grande evento alla presenza anche del presidente Mattarella. Qui quello che esce è necessaria più chiarezza, io sinceramente non saprei neanche cosa si può fare per essere ancora più chiari, non lo so, un volume con tutte le date una per una, non saprei. Comunque stiamo attenti, stiamo in cattura e sicuramente vivremo un anno da capitale della cultura. Ho fatto anche la rima. Si sente poco parlare di cosa effettivamente ci sarà, però concludono, siamo fiduciosi, queste sono due studentesse del conservatorio Orsini di Pesaro, Loisa De Nardis e Caterina Dionisi che dice però dai, non abbiamo capito niente, però insomma qualcosa succederà, siamo fiduciose. L'abbiamo visto dalla prima pagina, poi dopo dentro diventa un trafiletto piccolissimo perché in effetti la notizia è minuscola, hanno identificato e arrestato il ladro delle casette, quello che si è intromesso e ha rubato 400 euro tra cinque casette, una borsa di pelle, insomma l'hanno riconosciuto subito perché pare che sia, abbia precedenti, l'hanno riconosciuto subito, andate a casa, ha detto, quella cosa lì non la dovevi fare e di conseguenza l'hanno arrestato, adesso non credo poi che sia proprio in galera. Comunque, Cattarini nei primi 70 anni abbiamo bisogno di ideali, in 300 hanno festeggiato il presidente della comunità terapeutica, ma chiarisco subito il sindaco, non lo faccio perché ogni volta si mette fuori questo nome di Silvio Catarina che però a 70 anni ha deciso che non se ne parla, gli ha festeggiati al tingolo la comunità terapeutica femminile legata all'imprevisto e mi sono evidenziato la conclusione che Luigi Illuminati in questa bella intervista con Silvio Catarina ottiene per chiudere il pezzo. Cosa dobbiamo fare? E lui chiaramente fa uno slancio filosofico, direi. Il cuore è sempre pieno di desiderio e dobbiamo frequentare quei luoghi che sono fatti di speranza. Abbiamo bisogno di un sussulto, anzi di un impeto nuovo. A dire il vero dobbiamo porre in essere un'insurrezione dell'anima. Molto bella questa cosa. Riprendetelo, leggetelo con attenzione e grazie a Luigi Illuminati e a Silvio Catarina. Si va avanti, chiude un'edicola che, come tante, ma mi piace leggere soprattutto perché Roberto Renzi, pesarese, veniva a scuola con me quando eravamo piccoli, lo saluto, ha deciso di chiudere il 31 dicembre scorso l'edicola di Piazzale Innocenti dopo una vita intera, 67 anni, il momento giusto probabilmente per andare in pensione. Ciao Roberto, goditi il tuo periodo di pensione e andiamo a Fano, dove la videosfera racconterà i segreti del mare. Ricorderete, nei giorni scorsi si è parlato, a proposito di non si è sentito niente, di questa grande sfera che a Pesaro verrà posizionata lato poste, per capirci, di là della fontana lato poste, mentre di qua c'è il grande palco che si vede bene e che resterà per tutto l'anno della capitale della cultura. A Fano rilanciano con cosa? A Fano rilanciano con due vongole giganti, così le chiamano, saranno realizzate in porto, da maggio sarà possibile ammirare i fondali, c'è un rendering, ma questi rendering lasciano un po' il tempo che trovano, dalla biosfera di Pesaro la videosfera del mare a Fano è una battaglia della tecnologia, quella fra le due città costiere, con Fano che rivendica attraverso il sindaco Massimo Seri il ruolo di vera capitale della cultura 2024. Ha deciso Massimo Seri che la vera capitale è Fano e noi gli andiamo dietro, andremo a visitare queste vongole del mare. Io spero che trovi un altro nome perché se Fano diventa famosa come seconda o prima capitale della cultura per le vongole, diciamo che forse abbiamo un problema. Furti anche sui pescherecci, rubano telefonini e pc, allarme al porto, a bordo, sottratto di tutto e qui mi sono messo in un punto, il titolista per esigenze di sintesi ha scritto una cosa che è curiosa alla fine, allarme al porto, a bordo, sottratto di tutto, persino gli oggetti di valore è messa così, dice come se di solito gli oggetti di valore i ladri li lasciassero lì, probabilmente invece il senso era a bordo c'è di tutto, anche oggetti di valore che ovviamente attirano i ladri che rubano, qualche armatore è stato preso di mira e ha subito i colpi in più occasioni, la tecnica anche qui è un po' banale, la tecnica è semplice e sempre simile, nella notte salgono a bordo, forzano la cabina e agiscono e rubano, i ladri così fanno, entrano dove non dovrebbero e rubano quello che non è il loro, oltre al danno economico che può essere di poco conto creano insicurezza e una certa preoccupazione all'interno della marineria, probabilmente c'è l'esigenza di mettere un po' più sotto controllo tutta la zona del porto di Fano, questo articolo di Silvano Clappis sottolinea questo problema. Si va avanti veloci, il centrodestra vicino alla candidatura di Serfilippi, siamo sempre a Fano, Luca Serfilippi attuale consigliere regionale della Lega probabilmente è il nome che verrà scelto definitivamente dal centrodestra, mentre il centrosinistra ancora ondeggia e sbanda. C'è una foto che riguarda Marta Ruggeri, Marta Ruggeri che è il Movimento 5 Stelle, è una consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, potrebbe essere lei la candidata del centrosinistra, ma pare che non vada bene a tutti naturalmente, per cui deve avere delle deroghe, insomma campagna elettorale molto in anticipo, giocata appunto sulla Totonomi, ci sono anche i nomi dei quattro assessori che potrebbero, attuali, che potrebbero entrare in gioco con delle primarie del centrosinistra, attuali assessori della Giunta Seri, Cristian Fanesi del PD, Etienne Lucarelli dell'area civica, Samuele Mascarin di Incomune, Cora Fattori di Europa, ci potrebbe pensare a delle primarie fatte tra questi assessori per dare risultato a un nome, insomma, naturalmente questo è l'argomento, questo è l'argomento che Terra Banco dà adesso fino alle elezioni dei prossimi mesi. A Terre Roveresche invece pensano a quello che è il bilancio di previsione, il sindaco e il vice sindaco Antonio Sebastianelli e con l'assessore al bilancio Diego Santini si esprimono in maniera positiva sul bilancio di previsione, fissano le priorità, non aumentano le tasse, previsti anche investimenti su rattatori a rede urbano, insomma cose belle a Terre Roveresche. A Urbino, una bella notizia, l'Ateneo più attraente delle Marche è l'Università degli Studi Carlo Bo di Urbino, prima tra le università regionali in base ai dati dell'anagrafe nazionale oltre il 50% degli studenti iscritti quest'anno proviene da fuori. La foto riguarda il prorettore alla didattica dell'Università di Urbino Giovanni Boccia Artieri, che salutiamo, l'Università di Urbino più attrattiva delle Marche per gli studenti da fuori regione. A certificarlo sono gli ultimi dati consolidati e forniti dall'anagrafe nazionale studenti relativi al 2021-2022. Gli allievi potranno chiedere la tesi già dall'inizio dell'ultimo anno di studi, tra le novità annunciate dal prorettore bocciartieri, insomma cose belle per l'Università di Urbino, mentre a Urbino hanno già deciso di spostare al chiuso gli eventi per la Befana, perché appunto c'è il rischio maltempo e gli eventi organizzati dal Comune per l'Epifania si spostano al chiuso a causa appunto di questo maltempo. Resta confermata la camminata, quella al chiuso non la possono fare, organizzata dal gruppo sportivo Avis Aido, mentre per il resto le iniziative di Piazza della Repubblica stanno al collegio Raffaello alle 18, c'è una tombola, ci sono varie cose. Poi ancora a Urbino, Urbino da voce, anche qui mi dispiace perché ogni tanto devo sottolineare queste cose ma a me balsano all'occhio, Urbino da voce agli scrittori minori, dai non puoi definire qualcuno scrittore minore anche se poi è vero, Urbino e i suoi scrittori contemporanei, dopo entra giustamente l'articolo e conclude dicendo l'assessore Francesca Fedeli spiega che Urbino darà voce ai meno conosciuti. C'è modo e modo di dire le cose, dare a uno dello scrittore minore anche se è vero non è bello. Intanto siccome non nevica il Carlino va a cercare la neve di 50 anni fa, c'è una bella foto degli spalatori a ripulire la neve, dalla neve la strada del Monte Nerone fine anni 50 addirittura, quest'anno a Carpegna non si si era per niente, insomma c'è un bel escursus sul problema della neve che ovviamente se è un problema per tutte le località più blasonate dell'arco alpino figuriamoci cos'è da noi, cioè effettivamente ieri avrete visto c'era la webcam sul Monte Nerone, sembrava estate, per cui vabbè andiamo avanti, la Befana vuole alto, no ai cellulari dice la anziana vecchina, simpatica peraltro, la consegna delle chiavi, questo è a Urbani, a Urbani sapete che è la capitale mondiale della Befana perché poi la Befana è un fenomeno tipicamente italiano, all'estero non c'è e essendo capitale italiana della Befana autoproclamata Urbani è diventata capitale mondiale insomma e la Befana più importante del mondo a questo punto dice ai bambini tornate a giocare in cortile come si faceva una volta, riceverà le chiavi di Urbani e dal sindaco Ciccolini e come abbiamo detto ieri nel Tg potrà fare quello che vuole per cui vedremo cosa ci farà di queste chiavi. Una bella notizia per chi è appassionato di buon cibo e per chi è affezionato a due persone straordinarie che sono Marcello Rivi e la moglie Norina Mauri, ex gestori del ristorante Le Contrade a Pian di Meleto, ristorante che poi è stato chiuso per un gravissimo incidente nel quale è stato coinvolto Marcello, insomma una storia dalla quale loro stanno uscendo con una bella idea, l'idea è quella di andare a casa di chi li chiama a far da mangiare e fanno delle cose buonissime, ovviamente la loro specialità è il tartufo ma sono due cuochi di una passione e di una bravura ma soprattutto di questa umanità straordinaria per cui invitarli a casa propria per farsi preparare qualcosa che fa parte della loro storia, della loro tradizione, della tradizione di tutta la nostra regione, di tutto il nostro introterra, di tutti i nostri cibi è esperienza che potendosela permettere io consiglio a tutti. Giustamente il resto di Carlino dà questo spazio a questa idea per continuare a fare quello che sanno fare meglio e salutiamo personalmente Marcello Rivi e Norina Mauri e andiamo avanti nel borgo di Piobbico ci sarà il presepe vivente, lo sapete, oggi alle 19.30 e alle 22, presepe vivente di Piobbico ne abbiamo parlato anche in altre occasioni e stiamo andando velocemente, note profumo di quattro stagioni al Teatro Rossini, c'è il primo degli eventi ufficiali e culturali di Pesaro Capitale della Cultura, domenica 7 gennaio alle 18, a interpretarlo sarà anche qui il mezzo soprano, è vero che si dice così però a questo punto visto che l'andazzo e diciamo l'orientamento è quello a usare il femminile, la mezzo soprano, a interpretarlo sarà la mezzo soprano Daniela Pini, un evento fra i primi di Pesaro Capitale della Cultura e c'è la foto appunto della mezzo soprano Daniela Pini protagonista del concerto, propone una serie di arie dallo spessore virtuosistico di Endel e Vivaldi. Naturalmente vedremo anche dopo se dovessimo occuparci di tutti gli spettacoli che ci sono, dovremmo dedicare intera rassegna e stampa solo agli spettacoli, comunque un cenno per l'Epifania, per il concerto del coro di San Carlo all'Epifania perché ne abbiamo già parlato sul podio della formazione Salvatore Francavilla, l'organo Claudio Colapinto in programma sabato 6 gennaio al Duomo di Pesaro alle ore 16. E con questo passiamo al Corriere Adriatico del quale riguardiamo appunto insieme la prima pagina, Strada Carloni, altro stop, Strada Carloni fa parte di tutto il cantiere dei lavori di Muraglia per lo sviluppo e il prolungamento della Interquartieri. Poi c'è Don Gianni che lascia appunto a Fontavellana per raggiunto limite, non sapevo io ma ci sono dieci anni nei quali appunto uno può fare il capo, il priore, non so adesso vedremo come si chiama e lascia, arriva Frate Cristiano. Furti nelle casette, ormai ne abbiamo parlato, sta diventando famosissimo questo ladro, vongola gigante l'abbiamo appena detto, polemica da Tinti, da Fratelli Italia critica estravaganti, vedremo di qual si parla, voli, resa dei conti e qui andiamo ad approfondire, la vista deve rassegnarsi, sì la Val Perugia e poi c'è Padre Maggi che parlava appunto della velocità nella benedizione dei gay. Allora il resto del Carlino, scusate il Corriere Adriatico ci ha da tempo abituato non solo a queste infografiche che riportano dati eccetera, ma a stare sul pezzo per quanto riguarda l'Italia. La polemica va avanti da parecchio e a questo punto siamo alla risposta, sono andati un po' per stracci, siamo alla risposta, resi pubblici in una conferenza gli accordi dietro le nuove rotte nazionali e internazionali, dice Bruschini, violate tutte le regole, già la prima transita del 1 ottobre non era stata versata, dice invece la D di Aeritalia. Bruschini non ci sta, Bruschini è il direttore dell'ATIM, dell'agenzia territoriale Marche, non ci sta a finire crocefisso, replica Aeritalia ha violato il patto di riservatezza esibendo l'accordo sottoscritto con ATIM, così aggiungendo all'elenco già corposo un nuovo inadempimento, Aeritalia avrebbe dovuto produrre una fideliusione e non l'ha fatto, evitare di diffamare ATIM e non l'ha fatto, ma soprattutto avrebbe dovuto presentare un piano marketing adeguato e probabilmente non ha fatto neanche questo. Insomma la cosa, la polemica è molto 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 accesa, accordi traditi solo da loro e volevano darci un milione, dice invece Intrieri, Gaetano Intrieri che è la D di Aeritalia, ricordiamo a tutti che stiamo parlando di una cosa che probabilmente non tutti 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 utilizzano, ovvero l'aeroporto di Falconara per volare da e per. La polemica è questa e andrà avanti ancora, Intrieri a D di Aeritalia, ce ne andiamo da Ancona, forse per noi andremo anche domani, dice lui. Adesso chiediamo 25 milioni di euro di debiti per i danni subiti dall'ATIM, questo è Aeritalia che lo chiede, Mangialardi attacca, così Acquaroli e Brandoni hanno tradito i marchigiani, insomma è una bella storia lunga e articolata, tant'è vero che si merita anche altre due pagine, danni da Aeritalia ma presto voli privati come Londra e Milano, c'è un record di passeggeri che vedi bello 610.525, poi vai a vedere e sono i passeggeri del 2011, un altro mondo, un'altra epoca, non lo so perché e a cosa ci possono servire queste cifre. Alexander Dorsogna, imparate anche questo nome, chi è? È l'amministratore delegato di Ancona International Airport, per cui è un altro nome che entra in ballo e entra in gioco e dice che la querelle comunque tra Aeritalia e Atima ha un effetto soprattutto sul Sanzio, che adesso è fatto, Aeritalia ha vinto, il bando deve continuare a fornire i servizi, insomma intervistato anche lui ha, anche lui ovviamente qualcosa da dire, dal Sanzio ad Atene il ritorno, la vacanza si può prenotare e questa è invece una novità positiva, sarà operativo dal 2 giugno il collegamento diretto di Volotea con la Grecia, ticket in vendita, prezzi da 31 euro a volo, si parte il mercoledì alla domenica e qui, insomma, se vogliamo andare ad Atene ci si può andare a prezzi molto molto appetibili e interessanti, quando dici da 31, però da 31 a 38 euro il prezzo dei biglietti attualmente in vendita per singolo viaggio, andate a vedere e magari ci scappa la vacanza, in Grecia. Strada Carloni, altro stop, qui ci sono anche le foto, molto bello articolato, ultimi disagi fino al 29 febbraio, ma in primavera il nuovo tracciato sarà pronto, per cui ci sono diversi punti che avevo evidenziato, Bretella di Muraglia chiude nuovamente la strada, stiamo rimuovendo l'asfalto, su Strada Carloni dice uno degli addetti, per cui non si passa, non si passa proprio, non c'è l'asfalto. I lavori delle altre opere accessori che saranno curati sempre da Amplia inizieranno presumibilmente nel corso di quest'anno, perché poi non è finita, cioè quando viene aperta poi, dopo continuano altri lavori, fortunatamente senza chiusura del traffico, perché il lavoro è grosso, ci va il casello, ci va un sacco di roba, però la città verrà veramente rivoluzionata. Intanto l'assessore Pozzi fa il giro dei cantieri e ha fatto due verifiche anche sul fiume, la casa del parco, nel parco Mirafiore, la zona della piccola ribalta in via dell'Acquedotto che vedrà una pensilina esterna per estendere la possibilità di fare spettacoli appunto anche all'aperto e poi c'è questo primo stralcio, questa prima impostazione della ciclo pedonale sul Foglia, pista ciclabile che si andrà a collegare col quartiere Tombaccia. Tutte cose che si stanno muovendo, veramente tanto, tanti cantieri in città e questo è segno di una mobilità importante, di un movimento importante. Per esempio vengono demolite e ricostruite poi due scuole, l'Anna Frank e la Dante Alighieri, l'Anna Frank a Santa Maria delle Fabrecie e la Dante Alighieri in Soria, al momento i ragazzi sono stati spostati a Pesaro Studi, c'è ovviamente un solito movimento di timori da parte dei genitori che dicono ma dopo quando li rimandiamo a scuola dall'altra parte ci staranno, si presume di sì e va bene. Andiamo avanti ancora, traslocano i tesori di Palazzo Mazzolari in previsione della partenza dei lavori, il Vice Sindaco Vimini incontrerà il Maestro Vangi per il progetto dello spazio museale a lui dedicato. Viene riqualificato, lo sapete, il Palazzo Mazzolari per cui contiene come tanti palazzi storici della nostra città, tanti tesori dovranno essere spostati. L'assessora all'attività economica Francesca Frenquellucci comunque tranquillizza tutti, dice non vi preoccupate, abbiamo pianificato tutto, tutto funziona, tutto tornerà meglio di prima per cui noi ci fidiamo e ci tranquillizziamo. Capitale 20-24, il volley si gioca il suo passaggio di consegne, è vero, sabato c'è questo incontro di cui abbiamo parlato anche su Cine News, l'incontro sportivo, la partita tra Bergamo e la squadra di Pesaro e in quell'occasione la Megabox e in quell'occasione ci sarà anche il passaggio di consegne perché Bergamo insieme a Brescia nel 2023 è stata capitale italiana della cultura e allora hanno colto l'occasione visto che Bergamo farà la partita contro la Megabox e Vallefoglia, ho sbagliato il tuo peso, ma in realtà è Vallefoglia e in occasione di questa partita dalle 19.15 ci sarà una grande festa con la consegna virtuale e anche reale del testimone che verrà dato appunto da una capitale all'altra capitale. La provincia sede ideale per l'università no alle demolizioni, niente case market riprende la notizia appunto di cui abbiamo già parlato, tra l'altro hanno messo la stessa foto in due posti diversi, la stessa foto per cui da una parte in una delle due non c'entra, c'entra qua e non c'entra di là. La provincia sede ideale per l'università no alle demolizioni, niente case e market, la protesta diventa osservazione della variante al PRG dei cinque architetti che vogliono salvare il palazzo di vetro. Gli architetti impegnati nella battaglia per gli edifici della provincia sono qua fotografati, la funzione a nostro parere andrebbe conservata, la funzione collettiva e pubblica, riqualificando gli ambienti come sede universitaria. Qua c'è una cosa curiosa, Papa Francesco, sapete che dopo il terribile omicidio di Andrea Ferri, ormai tanti anni fa, una decina di anni fa, il 4 giugno 2013, 11 anni fa, il Papa Francesco l'ha chiamato per dimostrare vicinanza alla famiglia e al fratello Michele Ferri, l'ha richiamato, lo chiama ogni volta quando è il suo compleanno, ma Michele Ferri era al telefono e il Papa gli ha lasciato un vocale e Gianluca Murgia si diverte un po' a ricostruire tutta la scena, leggetelo perché è veramente divertente, perché poi non basta, il Papa gli ha lasciato il vocale, ma poi l'ha richiamato nel pomeriggio, ma aveva la batteria scarica Michele e gli è caduto la linea, allora Michele Murgia si immagina, dice la scena ce la immaginiamo così, il Papa che mette gli occhiali, prende l'agendina, col dito arriva la F di Ferri Michele, Pesaro, poi chiama, trova occupato, lascia il vocale, insomma divertente, bravo, bravo Gianluca, ci siamo fatti una risata, un sorriso divertente, comunque bel momento, bel momento per la famiglia e soprattutto piacevole sapere che il Papa continua a ricordarsi di loro e non è rimasto un episodio così isolato. Il ladro che aveva usato il monopattino, insomma ne abbiamo parlato tanto, adesso qui se volete vedere Luigi Benelli dedica una mezza pagina, ma insomma c'è veramente poca sostanza, questo mezzo balordo, con il monopattino si spostava da una casetta all'altra, sono attaccate tre metri di distanza, lui andava col monopattino e gli hanno sequestrato anche il monopattino perché ovviamente diventava il mezzo utilizzato per compiere il reato. Cambio della guardia fontavellana, Don Gianni lascia, arriva frate Cristiano, brasiliana, la nuova guida per il monastero, mi aspetto una missione di sapienza e umiltà. Come dicevo c'è scaduto il mandato, c'è un mandato decennale per i vertici della comunità camaldolese del monastero di Santa Croce di Fontavellana, dall'altro ieri è Don Cristiano de Oliver Susa, è il nuovo capo, non so come si chiama. Allora si va, il sindaco consegna le chiavi della città, le befane volanti, abbiamo veramente parlato tanto, Gambini favorevole a riceci, qui scatta uno scandalo, l'ex sindaco di Petriano tira fuori delle carte e dice ma qui il sindaco Gambini girava con i progetti sostenendo cartine tecnici per la discarica di riceci. Quando volete approfondire qualcosa su riceci, l'argomento c'è sempre, su riceci si parlerà per anni probabilmente, mentre la scuola primaria di Calpino a Fermignano inaugura domani e lunedì già i ragazzi saranno a scuola. Fermignano ha fatto un lavoro straordinario con dei bandi, intercettando dei fondi di un bando regionale o europeo, credo europeo, hanno trovato veramente tanti soldi e hanno costruito questa scuola super all'avanguardia che gli augurerà domani e che da lunedì ospiterà i ragazzi che ritornano a scuola. Giovanelli il candidato sindaco più forte per Urbino, continua questa ovviamente eterna campagna elettorale, però Urbino sta andando in quella direzione anche se ovviamente è stato fatto anche il nome di Scaramucci, per cui ancora la decisione certa non c'è, però vanno da quella parte, qualcuno dice lui è il sindaco più forte ragazzi, se vogliamo vincere, Giovanelli è il nome giusto. La videosfera nella vongola gigante, l'ultimo suggestivo progetto di seri, il sindaco con Lucarelli annuncia l'installazione per maggio al porto, in tutto a disposizione, 2 milioni, 2 milioni di vongole. La spedula comprende anche l'ecomuseo e la sistemazione dell'area. Abbiamo un riferimento per Fano a Ser Filippi candidato, Forza Italia punta i piedi, dice come ci avete scavalcato, noi volevamo proporre il nostro. Ragazzi la campagna elettorale è fatta così, prima si fa all'interno delle forze politiche, poi dopo ci si mette in campo e si comincia a combattere. I saldi sono troppo precoci, ci occuperemo anche noi dei saldi, i saldi sono troppo precoci, meglio spostarli a febbraio, cent'anni che dicono questa cosa qua, questa volta è Barbara Marcolini con questo suo pensiero, è un pensiero che nutrono un po' tutti i commercianti, effettivamente fare i saldi, che la stagione come si dice con un luogo comune trito e ritrito non è praticamente ancora iniziata, effettivamente è un po' presto, poi penalizza le vendite di Natale, ormai non c'è più quest'ansia di dire devo farti trovare il regalo sotto l'albero, magari ti faccio trovare il pensiero, poi dopo il regalo te lo porto e lo vado a comprare i saldi, insomma è presto effettivamente. Ma andremo ad approfondire un po' cosa ne pensano i commercianti, perché preannuncio già che ci sarà del movimento su questo argomento da parte di Rossini TV. Tasse e tariffe invariate, anche loro si occupano del sindaco Sebastianelli e dell'assessore Diego Santini, parliamo di terre roveresche, Presepe Paese ripropone l'opera di Greccio a Mondolfo, ne avevamo già parlato e ricordiamo 17,30 e 19 a Mondolfo domani, 6 gennaio, se per caso dovesse piovere, ahimè le previsioni ci dicono di sì, sarà recuperato il 7 gennaio, ma piove anche il 7 gennaio. Vediamo, allora andiamo veloci perché abbiamo finito. L'ultimo cenno a questa cosa di padre Alberto Maggi che dice, insomma comiche finali, dal Vaticano arriva la precisazione che le benedizioni, è proprio un suo poste, che le benedizioni per coppie irregolari siano di pochi secondi, già li vedo i preti col cronometro in mano, ma il Vaticano hanno il senso del ridicolo, non pare, e questo lo dice niente meno che il biblista padre Alberto Maggi. Il Papa ha avuto coraggio, va sostenuto, ma dietro c'è un organismo che rema contro. Allora si va velocissimamente a dare un'occhiata allo sport, qualcosa l'avevamo già accennato perché era nei titoli, sì la saluta la vissa, adesso è del Perugia, noi avevamo letto con passione questa sua intervista nella quale diceva che poteva fare di più, è soddisfatto, ma poi prende e va da un'altra parte. Così succede nello sport, ora per l'attacco sono in arrivo Nicastro dal Ponte d'Era e l'argentino Molina, questi sono gli arrivi annunciati, ma sembra già fatta, nei giorni scorsi avevamo parlato del presidente Bosco che ha detto qualcuno di mai visto queste latitudini, Joel Obi, il centrocampista nigeriano, classe 91, rimasto svincolato dopo la mancata iscrizione in B della regina e atteso a Pesaro all'inizio della prossima settimana. Un colpo di primo piano, il curriculum parla di 142 presenze in Serie A con le maglie di Inter, Parma, Torino, Chievo e due stagioni fa Salernitana nobilitate da 8 gol, 4 assist. Insomma dai, è vero, mai visto queste latitudini, vedremo se riuscirà a vivere bene nelle nostre aree, nei nostri campi e sul nostro terreno di gioco. Il Fano tra mille dubbi, dopo questo addio di Tenko Rang, che quando l'ho letto sembrava il nome di un'azienda appunto di tecnologia, invece è Tenko Rang, ci parla di Skardina o Skardina e Cikarevic, certo che fanno posta, per uno che non è proprio addentro alle cose del calcio fanese come me, è sempre un po' complicato. Fedele, gli stipendi, il patrono russo, questa è la cosa più importante, il patrono russo onorerà gli impegni come ha sempre fatto finora, lo dice Fedele e dice ragazzi non vi preoccupate, non la fate lunga questa storia degli stipendi ogni volta e se non ci pagano non giochiamo e se non ci pagano non vediamo agli allevamenti, insomma vi pagano, vi pagano, questo lo dice Fedele. Occhio WL, Sassari è in ripresa, ragazzi qui tocca stare attenti, tocca andare in tanti a sostenere la WL. Domenica alle 16.30 la Vitri Frigo Arena contro il Banco di Sardegna, Sassari deve tornare a vincere, la Carpegna Prosciutto deve tornare a vincere, intanto sapete che c'è del movimento per quanto riguarda sostituzioni, c'è l'infortunato Banford, c'è Ormsby che è in pole per sostituirlo, c'è la panchina di coach Buscaglia a rischio, insomma ci sono molti motivi per andare alla Vitri Frigo Arena a sostenere la nostra squadra del cuore. E mi sa che abbiamo finito perché qui come dicevo prima, questi sono tutti spettacoli, guardate, vi faccio vedere così, questi sono tutti spettacolo, cultura, cultura, spettacolo, eventi, eventi, spettacoli, cultura, ci vorrebbe una raffinata stampa intera solo per gli spettacoli, cosa che noi ovviamente non possiamo permetterci di riservare. L'ultimo stralcio è per la ripresa, per farvi solo vedere che anche il resto del Carlino ovviamente si occupa degli stessi argomenti, vi sceduto il centravanti Silla al Perugia, se ne arriva Obini, Castro e Molina e poi la VL caccia i soldi per portare Obini, perché il problema non è decidere se lui è bravo o no, il problema è chi lo paga e allora c'è stata questa ricerca tra i consorziati, ragazzi qui tocca comprare un giocatore nuovo, chi tira fuori i soldi? Eh, non è facile. Un altro play in campo col Sassari, ovviamente se ne occupa Luigi Illuminati, fa una bella apertura. Se i cronisti di Los Angeles scrivono che i Lakers continuano a essere preoccupanti, cosa volete che possano scrivere i cronisti della VL sempre più destinati alla bassa classifica alle prese domenica pomeriggio con un altro spareggio contro Sassari? È un attacco straordinario di Luigi Illuminati che poi va avanti su questo tenore e dice cosa vi dobbiamo dire? Eh, ha ragione lui. Dopo Tenkorang c'è Mancini, almeno questo si chiama Mancini, è più facile, e poi abbiamo fatto, perché dopo si parla di Parigi-Dakkar, ah no, c'è Little Service che ha firmato Moabz calcio a 5, grande colpo della bulldog Lucrezia che ingaggia il laterale, ma soprattutto Pesaro abbraccia il 2024 regalandosi un giovane di grande prospettiva, un giocatore di qualità pensato non solo per il presente, ma anche e soprattutto per le prossime stagioni. Mohamed Bollou Zirhari è un nuovo giocatore bianco-rosso. Per tutti semplicemente Moabz, perché non è proprio semplicemente. Il marocchino ha scelto la maglia numero 19. Va bene, con questo inciampo linguistico personalissimo. Io ho concluso, diamo un'occhiata alla serata di Rossini TV e vediamo, per chi volesse vedere la replica, chi l'ha perso ieri, oggi c'è la replica di Sinfonia di Maestri, dove tra l'altro si parla del concerto dell'11 gennaio, oggi alle 14, alle 22.45, poi domani alle 15 e tutto il resto, come vedete bene in grafica. Ci sono Francesco Marconi, prima tromba e Marco Torsani, primo clarinetto dell'Orchestra Sinfonica Rossini, protagonisti di questo nostro straordinario programma di approfondimento sulla Orchestra Rossini, Sinfonia di Maestri. Da non perdere se ve lo siete perso, da recuperare assolutamente. Oggi è venerdì, la prima edizione, poi seguirà anche domani e domenica, ma oggi alle 17.30, lettura e commento all'Angelo della Domenica, cura di Don Marco di Giorgio, Don Digio, che salutiamo naturalmente, sabato 10.30.16, domenica 8.11 e poi vediamo cosa ci propongono. Ah, stasera, è vero, stasera c'è il nostro, mio tra l'altro, resoconto del sul tuffo di Capodanno, ci siamo divertiti veramente tantissimo, il primo dell'anno mattina ad andare in spiaggia a vedere questi pazzi, erano 74, pensate un po', vi do un'anticipazione, che si sono tuffati, almeno così li hanno contati, chi è bravo ha fatto la conta e abbiamo realizzato uno speciale divertente, divertente e squizzante, perché vedrete che poi ci siamo anche divertiti a entrare in acqua, a trovare il modo per entrare in acqua. Insomma, non perdetelo, stasera 21.20, prima tv, prima serata. Domani, naturalmente, è sabato, ma ritorna la rassegna stampa e ritorna la nostra direttrice Emanuela Rossi, che salutiamo e a cui diamo un bentornato, un benvenuto e anche un buon anno, non avevamo ancora avuto l'occasione per farlo, 7.20 in diretta e tutti gli altri orari che conoscete già. Allora, abbiamo finito, mi ero ripromesso di essere un po' più corto, forse un pochino ce l'ho fatta, ma ancora devo studiare, chissà quando ricapiterà l'occasione, presto probabilmente, e ci vedremo ancora. Intanto seguite sempre tutto quello che succede sul canale 80 di Rossini TV, non ve ne pentirete, restate con noi, buona giornata e ancora fino a lunedì prossimo, continuiamo ad augurare a tutti buon anno.